fine mese giro il prossimo film prossimo capolavoro di cosa parlerà dal prossimo parla su sbarco di americani nel 43 in sicilia c'è una storia d'amore che si svolge durante lo sbarco durante quel periodo io c'ho l'ufficio stampa ogni volta che parlo sono terrorizzati perché mi lascia andare ma non lo farò perché no più che altro che rovini un po ma in realtà come dire la tesi nostra è che nel 43 in quell'estate il 43 lui il 43 si sono prese delle decisioni che le conseguenze di quelle decisioni le paghiamo tuttora come la vedi oggi la tua sicilia io tendo a vedere il bicchiere sempre da mezzo pieno tirando le somme facendo dire per esempio tirando in ballo la mafia c'è l'estate raccontavo la sicilia degli anni settanta tra la sicilia degli anni 70 e la sicilia di oggi ci sono dei miglioramenti io voglio voglio viverla così perché se no il fatto che che ci sono sindaci del momento 5 stelle al di là se uno cosa pensa il momento 5 stelle per il fatto che ci siano dei sindaci a bagheria gela è un buon segnale al di là di cosa uno può cosa può pensare il momento 5 stelle però non penso che che la mafia c'è che se sono stati letti loro e sono saliti vuol dire che qualcosa un pochino sta cambiando uso sempre il comitato addio pizzo è un'associazione anti racket palermo fatta da ragazzi sarebbe una cosa impensabile 20 anni fa 10 anni fa forse perché culturalmente era accettato perché è accettato pagare il pizzo ora io mi attacco a queste cose perché queste cose ci sono e noi dobbiamo partire da lì quindi io parto da lì e dico che le cose c'è bisogna fare una rivoluzione culturale e se non ci credi non ti riesce a piangere e quindi io non voglio piangere e quindi ci voglio credere da due anni che sono convinto che il problema della sicilia lo possono risolvere solo i siciliani quindi innanzitutto bisogna i siciliani dovevo dire partiamo da che la colpa è innanzitutto è nostra quindi fino a quando e poi si sa dire roma quello che vogliamo però fino a quando non ci rendiamo conto che la colpa è nostra e ci troviamo in questa situazione perché noi l'abbiamo voluto non usciamo vivi